Sabato 18 ottobre 2014 nella sede della Galleria Centro Storico Firenze in via del Porcellano ovviamente a Firenze sta per essere inaugurata una mostra, anzi tre mostre personali assemblate da Lucia Mazzetti, presidente dell'associazione. Sono tre artisti che i nostri telespedatori ad oggi non conoscono perché è la prima volta che sono ospite della nostra trasmissione non so se è la prima in assoluto che espongono nella nostra regione perché sono tutti provenienti dall'Italia del Nord ma ce li presenterà ora la presidente Lucia Mazzetti accanto alla quale vedete come sempre i volti noti dei critici che la affiancano nella difficile ma è faticosa procedura di proposta espositiva in questa galleria però gratificante perché poi queste mostre vi danno tanta felicità subito dopo, il giorno dopo l'inaugurazione. Fino al giorno prima c'è un po' di tensione. Allora signore e signori buongiorno, benvenuti alla Galleria Centro Storico io vorrei ringraziare i tre artisti espositori in questa rassegna di queste tre mostre personali da Matteo Cravedi, Ferruccio Lazzari e Antonio Pamate in Arte Libero. Io gli ringrazio della loro presenza, di avermi portato queste bellissime opere che come vedete tutte e tre hanno quasi un'unione tra i colori, tra questa forza, tra queste forme sono abbastanza equilibrati molto su se stesso. Sono quadri modernissimi che ci rappresentano futuro del nostro interiore, delle nostre sensazioni, delle nostre emozioni in cui viviamo. E tutte e tre hanno dei grandi messaggi artistici e ci fanno volare anche Matteo Cravedi insomma questi quadri qui che c'è Parigi, poi c'è quello, poi c'è quell'altro, poi c'è lui che va al mare insomma tutto nell'insieme sono una chiave ben abbinata. Io sono molto contenta di averli invitati, che sono qui presenti, gli auguro a loro di continuare senz'altro in questa sua tematica che loro hanno intrapreso perché fare arte e fare cultura rende un mondo migliore. Io gli ringrazio. Bene, allora prima di passare ai tre protagonisti di questa mostra che vi ricordo si concluderà il 31 ottobre e sarà visitabile tutti i giorni escluso la domenica e lunedì mattina dalle 11.30 alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30. vi ricordo anche l'indirizzo esatto della galleria Via del Porcellana 32 Rosso proprio di fronte al celebre ristorante 13 Gobbi. Iniziamo la carrellata di note critiche da Alfonso Confalone. Per ciascuno di loro dovresti dire... Grazie, ecco, è molto interessante il confronto fra tre livelli, tre mondi di espressione perché qui siamo nella più tipica manifestazione dell'espressione, non vorrei proprio dire espressionismo ma ci siamo, ecco. In Cravedi vediamo la, diciamo, irriverente ironia di un mondo descritto per simboli molto semplici esattamente come fanno i bambini. Ecco, lui è come un bambino che dice il re è nudo a questa cruda, spontanea, critica e denuncia, diciamo, nei confronti del mondo sempre con tanta ironia, che usa attraverso questi suoi simboli molto diretti, ecco. In Lazzeri noi vediamo una liberazione proprio dei flutti dell'interiore in cui il movimento, il moto della figura stessa prende il posto della definizione dei particolari. E in Pamato vediamo, ecco, un'artista che attinge ai meandri più misteriosi dell'espressione perché accende tutta la sua opera di una emotività segreta molto interiore. Bene, grazie Alfonso Confalone e poi anche un saluto da parte della nobildonna Lonzar. Grazie, posso dire anche due parole? L'arte è una cosa bellissima, agli artisti viene concesso la possibilità di trasferirla e di infermarla nel tempo. Grazie a loro poi non solo, ma ci trasmettono anche il loro stato d'animo. Io ringrazio gli artisti presenti, grazie. Bene, grazie per questa nota di colore. La professoressa Carmelina Rotundo. Questi tre grandi artisti le vorrei accomunare con una frase, una semplice frase. Loro rappresentano, col pennello, con la spatola, con la contaminazione di smalti oppure anche gettando il colore attraverso il tubetto direttamente, rappresentano una realtà emozionata. Cioè una realtà che è da loro vissuta, rivissuta, portata sulla tela e che ci emoziona. Che cosa di più di bello ci può essere? Della libertà, dell'amore, tutti i temi affrontati e portati avanti da questi tre grandi artisti. In una realtà, come ripeto, emozionata, che ci emoziona. Bene, l'ora il contributo di Settembre Sossi. Bene, è una vostra bellissima. È inutile stare a fare propaganda perché bisognerebbe visionarla. Abbiamo tre artisti accomunati dallo stesso senso dell'arte, dell'amore, e di dimostrare agli altri di poter dare il proprio sé e di poter esporre il proprio status d'animo e dare qualcosa a chi divisiona. Partendo un pochino da Cavredi, mi sembra, Matteo Cavredi, vedo un artista poliedrico perché spazia da una concettualità, è vero, è figurativo, sì, però spazia dal dripling all'astrattismo al figurativo e quindi un artista, diciamo così, addirittura sfocia nell'astrattismo in alcuni pezzi suoi. Parlando di Lazzeri, vediamo un misto tra il figurativo e l'astrattismo dove come centralità troviamo la figura umana. E questo Lazzeri penso che ci voglia dimostrare, anche se non abbiamo avuto modo di parlarci, ci voglia dimostrare la figura, la centralità dell'uomo e l'amore per l'altro. Antonio Pomato, definito in arte libero, libero di contronome, diciamo così, ma anche libero di fatto perché automaticamente, osservando e vicinando le sue opere, noi vediamo che dà molto risalto, molta importanza al colore, dà molta importanza alla pennellata, quindi il colore fa da padrone, anche se possiamo definire un espressionismo, se possiamo definirlo a un certo punto come anche impressionista, però Pomato ha la facoltà di trasmettere alle altre le emozioni di quello che ha interiormente e di trasmettere. Quindi sono tre artisti accomunati dello stesso senso e l'amore per l'arte. Iniziamo ora la serie degli interventi dei tre artisti con Antonio Pomato in arte libero che ora verrà premiato prima dell'intervista da Lucia Mazzetti con una niche di Samotraccia che era la dea della vittoria e quindi noi speriamo che sia di buon auspicio, un buon viatico per rientrare nella sua città che è Vicenza. Vicenza, provincia e Vadagno. Ci può parlare brevemente dei quadri che ha selezionato per questa mostra? Senz'altro. Allora, per esempio questo qua rappresenta due anziani uniti insieme, che mostrano nelle loro mani, nelle loro braccia, che non si vedono, e tutta la fatica del lavoro. Praticamente è una trasfigurazione di una realtà. Tutte e tre siete, credo vi siate conosciuti tutti e tre in questa occasione, però vi accomuna anche un grande senso del colore. Sì, senza altro. Siete dei grandi coloristi. Per me il colore è tutto, più della mia parola, nel senso che rende in modo molto migliore quello che provo interiormente e che voglio comunicare attraverso il colore, attraverso la traccia che deve rimanere nella telea, nel senso che il colore buttato e non leccato, oppure cercare la leziosità di una forma che comunque risulta lo stesso. Bene, noi le facciamo tanti auguri e le diamo il benvenuto alla nostra città. Proseguiamo con Ferruccio Lazzeri, che ora verrà premiato sempre con la nicca di Samotracia, da Lucia Mazzetti. E subito dopo, ovviamente per i nostri telespettatori, una presentazione, perché è la prima volta che lei debutta nella nostra... Sì, io abito ora all'Ossesia, pochi chilometri dal Monte Rosa, e cosa devo dire, da quando avevo 15 anni che dipingo non ho mai voluto espormi più di tanto, perché è così, per timidezza che per altro. Questa è la sua prima mostra in Toscana? In Toscana sì, la prima. Ne avevo fatta un'altra a Verona e poi poche cose nella mia città. Se lei dovesse, in pochissime parole, sintetizzare la sua arte, come la definire? Come avevo detto giustamente ai critici, la figura umana è al centro dei miei quadri. Sono dei quadri introspettivi, nel senso che raccontano forse più di me che non di quello che vedo fuori, però attraverso la mia persona cerco di rappresentare quelle che sono le emozioni, le paure, i dubbi. Concludiamo la serie delle interviste con Matteo Cravedi che prima dell'intervista ovviamente riceverà la nicche di Samotracia da Lucia Mazzetti. Matteo è di Piacenza e quindi è un emiliano ai limiti. Emiliano, Emiliano però, non ci confondiamo. Allora, intanto si vuol presentare i suoi quadri ovviamente in maniera accumulativa perché non abbiamo il tempo per dettagliare. Ho fatto una raccolta di queste dieci opere qua che è accomunata appunto dal colore, dalla gioia così, che spaziano molto dalle varie esperienze che ho assorbito in questo periodo di tempo. Si passa appunto dal colore puro dell'astrattismo a qualcosa di figurativo, da qualcosa di paesaggi rivisitati che sono accumulati comunque dalla felicità. Anche a lei rivolgo la stessa domanda. È la prima volta che lei espone a Firenze? Firenze sì, 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 ho fatto qualcosa anche all'estero, a Berlino e a Verona, così dove c'erano anche... Allora, noi concludiamo il servizio invitando i nostri telespettatori a venire a conoscere questi tre artisti che per la prima volta espongono a Firenze e in Toscana e quindi è un'occasione imperdibile perché non sappiamo poi le alterne vicende delle vite artistiche che se vi riporteranno a breve o meno nella nostra città e nella nostra regione. Però c'è questa opportunità da oggi, sabato 18 ottobre, fino al prossimo 31 ottobre 2014 la Galleria Centro Storico Firenze, a sede in Via del Porcellano al 32 Rosso, quindi vicinissima a Piazza Ogni Santi, ovviamente anche al Ponte Vecchio, a Piazza della Signoria e a Piazza Santa Maria Novella che si trova proprio a pochissimi passi da qui. Vi ricordo che Lucia Mazzetti con tutti i suoi collaboratori sarà qua ad attendervi tutti i giorni escluso la domenica e lunedì mattina, dalle 11.30 alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30.